Perepe, perepe, cosa che era? Perepecore? No, no, c'era una... Piripi! Piripi! Cos'è che è? Piripi è... Il ciclone. Il ciclone, già, sì, sì, sì. O il ciclone dopo... Tosca d'Aquino e il ciclone. Piripi! Piripi! Ma perché un neurone deve essere occupato da questa informazione? Il ciclone Piripi, sì. Va bene, va bene. Mentre tu ieri sera facevi finta di lavorare in televisione, la televisione mostrava delle immagini che in qualche modo si possono collegare. Abbiamo scelto una sigla per questi due argomenti. Sì, è netta, giusto? Sì. Esatto, sì. No, curiosamente, della stessa giornata, o quasi, in verità, in due giornate, ci sono state due notizie che hanno a che fare sempre con i ritrovamenti appunto marini. Uno è un oggetto, l'altro invece è un pesce di cui non conoscevo quasi l'esistenza. Bellissimo. Cioè, a livello di nome magari l'avevo sentito nominare. Francamente non mi ricordavo di averlo mai visto. Ed è il pesce luna. Pesce luna. Tu conoscevi l'esistenza del pesce luna? No, io no. Io faccio finta di sì, ma se mi avessi chiesto come è fatto non avrei saputo veramente dire nulla. Il pesce luna è questa cosa strana che stiamo vedendo adesso. Praticamente è un pesce che ha solo la testa sulla quale sono innestrate le pinne. È un pesce senza il corpo. Senza corpo, praticamente. È praticamente tondo, gigantesco, arriva fino a pesare due tonnellate. In inglese si chiama sunfish, quindi non luna ma sole. Pesce sole. Perché sembra un pianeta, fondamentalmente. Il nome deriva dal fatto che questo pesce, quando si riempie di parassiti, perché viene continuamente aggredito, va a galleggiare. Lì diventa una piattaforma per uccellini o per piccioni, gabbiani, che vanno a mangiare questi... I piccioni no, ovviamente. I gabbiani sì. Vanno lì a mangiare i parassiti che però creano, nel momento in cui ci sono, anche una bioluminescenza. Quindi questo pesce si illumina. Da lì forse anche il nome di pesce luna. Se va a galla di giorno sembra il sole, se va a galla di notte sembra luna. Vale per entrambi i casi. Ma ti ipnotizza, perché ha questi denti che sono fusi in un becco. Noi l'abbiamo visto all'acquario di Genova e nuotava come un pazzo avanti e indietro, anche velocemente e per storto. Poi siccome è gigantesco e sembra che non possa nuotare, perché è difficile per un animale fatto con quella forma mantenere l'equilibrio e andare dritto con quella velocità. Tu rimani a guardare solo quello, anche se in tono ci sono gli squali. Comunque la notizia è che ne hanno trovato uno, è un pesce ovviamente in via d'estinzione, davanti a Ceuta. Quindi siamo all'imbocco del Mediterraneo, Gibilterra praticamente, il punto dove l'Europa e l'Africa quasi si toccano. E l'enclave spagnola. Esatto. Nelle acque di Gibilterra gli hanno pescato uno molto più grande del più grande che fosse mai stato pescato. Il più grande finora l'avevano trovato in Giappone ed era lungo circa due metri e mezzo. Questo supera i tre metri, anzi superava i tre metri, perché lo hanno tirato fuori, l'hanno tenuto fuori qualche minuto, un pesce comunque qualche minuto può vivere fuori dall'acqua, il tempo di controllare i suoi parametri, di mettergli evidentemente anche qualche rilevatore, qualche chip e poi l'hanno ributtato in acqua. Lo hanno salvato in questo modo perché il pesce era rimasto incagliato nelle reti. A strascico, un grande classico di questi pesci. Pesa qualche tonnellata. Ed sono longevi, questi durano più di cento anni la loro vita e questo probabilmente sarà più longevo di quelli che normalmente vengono pescati perché più sta più crescere. Ed è un pesce osseo, ho saputo che c'è questa distinzione. Cosa vuol dire pesce osseo? Che non ha la cartilagine, cioè la lisca, ma ha delle ossa come i mammiferi, come gli animali diciamo terrestri. Ed è sicuramente un pesce preistorico. Sì, la faccia è proprio quella di... sembra quasi un rettile. Sì, è incredibile perché non sapresti neanche da che parte pigliarlo quasi. Non si capisce neanche quasi da che parte la testa, la bocca, dove è la bocca. Sì, è una forma stranissima. Chissà se qualcuno se lo mangia, cioè i cinesi che mangiano... Giapponesi, giapponesi, giapponesi. Se se lo mangiano ci mangiano in tanti, questa è sicura. L'altra notizia, il Mar Ligure è pieno di pesci luna, dicono alcuni ascoltatori che stanno scrivendo in tempo reale. Ma davvero? Giuro, giuro. Non così grande ovviamente, però l'ho pescato con una rilte. E che cosa ne hai fatto? L'ho ributtato in mare. E lui ti ha detto grazie. Ti ha salutato con la pinnetta. Cantando l'una di Gianni Togni. Luna! No, invece l'altra notizia, quella più intrigante forse ancora, che avete visto dal mare di Israele fondamentalmente. Un sub ha trovato in una zona famosa per essere una caletta dove le barche vanno sempre a cercare riparo e quindi nei secoli molti si erano rifugiati in quell'angolo. Ci sono un sacco di reperti e ha trovato a 900 metri di profondità. Comunque Mar Mediterraneo sempre. Sì, sì, una specie di forziere, comunque una grossa cassa, mezza coperta dalla sabbia e all'interno di questa c'è questo spadone che si presume sia appartenuto a un crociato e che hanno datato circa appunto 900 anni fa appunto i tempi delle crociate. Sembra più una conchiglia. Sì, è interamente ricoperto di conchiglie. Questa, questo è. Sarà interessante vedere adesso se qualcuno ha il coraggio di tirarle. Come si staccano le conchiglie? O dire, le conchiglie si possono anche rompere. Con la spatola, prendi la spatola. Sono delle banali conchiglie. Ma gli dà la spatolata, gli dà una bella spatolata. Sono qualche liquido che le fa venire via senza essere troppo violenti, no? Lì bisogna andare con lo scalpello, mi sa, perché ci sono delle concrezioni che non si tolgono. Concrezioni come quelle che ti leveranno domani mattina. C'è uno su twitter che tutti i giorni segna una parola difficile che diciamo. Sì? Tutti i giorni. Un bellissimo servizio. E che era un po' preoccupato perché fino ad adesso... No, 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 no. Oggi segnerà concrezioni. Eh, guarda, guarda come me, non si capisce, sembra, cioè, non si capisce neanche perché è una spada. Sembra quasi di pietra, però la spada è intatta e ripeto, dovrebbe essere appartenuta a uno dei crociati o forse a uno dei crusaders. Forse i crusaders. Vabbè, spritz per tutti, no? Giusto? Perché questa canzone? Perché in origine era una canzone di un gruppo chiamato Crusaders.